Ciao amici, benvenuti in questa nuova puntata, io sono Alessio e oggi andrò a fare un intervento attraverso Adobe Lightroom Classic CC su un'immagine con lo scopo di aumentare la tridimensionalità. Quindi andrò a analizzare l'immagine dal punto di vista della luminosità, da dove arriva la luce, come la luce colpisce la scena e poi farò degli interventi selettivi sulle luci e sulle ombre per appunto cercare di dare un senso di tridimensionalità all'immagine. Sono consapevole che questa serie di interventi che andrò a fare non sarà molto apprezzata dai puristi della fotografia, tuttavia piace a me e quindi spero che questo video, mostrandoti quello che faccio, possa tornare utile a chi apprezza questo genere di interventi per appunto migliorare l'estetica di un'immagine. Ma adesso prima di iniziare come sempre ti chiedo di iscriverti al canale, se non l'hai ancora fatto vai qui sotto e clicca sul pulsantino di iscrizione perché la maggior parte di voi guarda i miei video ma non è iscritto o iscritta e a me servirebbe per far crescere questo canale. Ad ogni modo, metti di comodo a comoda che iniziamo! Ed eccoci qui sul desktop al mio computer. Il primo intervento che io vado a fare non ha finalità di editing, ma serve per rendermi conto in modo più tangibile di come è gestita, si presenta come si presenta l'immagine dal punto di vista dell'illuminazione del sole in questo caso, capire da dove arriva, dove va a colpire, quali sono i punti sui quali devo fare gli interventi e per farlo io vado a sfruttare degli strumenti di base e vado ad aumentare il contrasto a valori altissimi anche al massimo e poi abbasso l'esposizione. Vedi che agendo in questo modo ho chiaramente davanti a me la rappresentazione di come la luce va a colpire la scena e da dove arriva. In questo caso arriva da destra verso sinistra e vedi va a colpire queste zone, queste zone qui, queste altre zone qui, c'è una porzione molto interessante. Se vado ad aumentare un po' l'esposizione noterò che c'è anche questo versante molto interessante, bella illuminata e ci sono degli spot luminosi qui sugli alberi, anche qui con la luce che entra attraverso la vallata e va ad illuminare quella zona. Quindi ho individuato un po' quali sono i punti più interessanti dal punto di vista luminoso, come la luce colpisce la scena. Da qui in avanti posso fare i miei interventi in modo selettivo. Vado quindi a ripristinare l'immagine e vado a fare un crop all'immagine perché io voglio più un'immagine landscape, quindi più larga e bassa e per farlo vado a sfruttare lo strumento di ritaglio, vado ad eliminare i vincoli nei rapporti e vado a prendere la maniglia in alto. Tengo premuto il tasto Option su Mac o Alt su Windows perché in questo modo muovendo quella maniglia si sposta anche quella sotto in modo simmetrico e quindi trovo, vedi, il punto che mi interessa. Qui potrebbe andarmi bene, posso anche riposizionarla, ma eventualmente i ritocchi finali posso farli anche alla fine per quanto riguarda il crop. Mi serve per avere un punto di partenza sul quale lavorare. Perfetto, chiudo lo strumento di ritaglio. Adesso io voglio che questa immagine sia l'immagine di partenza dalla quale farò il confronto prima o dopo con i vari interventi. Per permettere questo vado nella colonna di sinistra, vado nella storia e semplicemente vado a cancellare tutto lo storico. In questo modo Lightroom vede questa immagine come punto di partenza per i confronti prima o dopo. Ovviamente se io premo su Ripristina, ovviamente l'immagine torna al rapporto originale con tutti i dati iniziali del file RAW, ma mi serve soltanto per il confronto prima o dopo. Perfetto. Cosa faccio adesso? Bilanciamento del bianco. Lo vedo già dall'istogramma che sulla zona a destra c'è una curva blu che prevale un po' su tutte le altre e quindi significa che ci dovrebbe essere una dominante blu sulle luci e in realtà è proprio così. Vado a correggere quel bilanciamento del bianco. Posso farlo ad occhio se ho un monitor ben tarato, ma posso anche guardare l'istogramma. Vedi che quando le curve un po' si sovrappongono, bene o male, dovrei avere un bilanciamento del bianco un po' più corretto rispetto a prima. Ovviamente è sempre anche un occhio e anche gusto personale. Vediamo prima o dopo. Premo il tasto appunto sulla tastiera per vedere prima o dopo. Prima, dopo. Quello che ti dicevo mantiene il rapporto di ritaglio, ma posso vedere prima o dopo come sono gli interventi. Vado a migliorare, ad ottimizzare un po' adesso la gamma dinamica dell'immagine e per farlo sfrutto bianchi e neri, i due slider che ho qui a disposizione e tengo premuto il tasto Option su Mac o Alt su Windows per fare una cosa interessante. Premo quel pulsante, agisco prima sui bianchi, guardo cosa succede. Appena tocco il cursore dei bianchi, tutto diventa nero, ma se io aumento il valore, ad un certo punto compaiono delle macchie. Le macchie bianche mi stanno a indicare che quelle zone saranno sovraesposte, tant'è che se io lascio così, tolgo il dito dalla tastiera e vedi appunto che ci sono queste zone estremamente sovraesposte, non è quello che voglio. Tengo premuto il tasto Option su Mac, Alt su Windows e vado a trovare il giusto compromesso, aumento, 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 fin tanto che compaiono i primi puntini, li faccio scomparire e li lascio. Li ho ottimizzato diciamo i bianchi. Faccio la stessa cosa per i neri, tengo premuto quel tasto, muovo i neri ovviamente in negativo, compaiono delle macchie nere, significa che quelle zone sono ovviamente sottoesposte. Anche qui trovo il giusto compromesso, appena cominciano a comparire dei puntini neri li lascio stare, sono a più 12, meno 7. Rivediamo i bianchi, sì ci siamo, vediamo prima, dopo. Ho ottimizzato anche un po' la gamma dinamica della mia scena. Da questo momento in avanti posso iniziare ad agire sulle maschere in modo selettivo. Infatti vado a sfruttare le maschere, utilizzerò il pennello e farò degli interventi per schiarire le zone più luminose e scurire leggermente le zone più scure appunto, in modo da aumentare un pochino il contrasto e dar questo effetto un po' di tridimensionalità alla nostra immagine. Però ti dico già una cosa, io sto utilizzando il mouse, ovviamente con una tavoletta grafica sarebbe molto più piacevole fare questo tipo di intervento, sarebbe anche molto più comodo, ma per comodità nella realizzazione di questo video io sto utilizzando il mouse. Ciò nonostante vedrai che il risultato non sarà comunque male. Cosa devo fare adesso? Voglio schiarire le zone chiare, come abbiamo visto prima avevo individuato quali sono le zone che voglio schiarire, andrò a sfruttare il pennello e vado quindi ad impostare su esposizione già un valore di più 1 perché voglio praticamente aumentare l'esposizione delle zone chiare e mi accerto di avere mostra sovrapposizione attivata in modo da vedere quello che andrò a fare e vedere appunto i passaggi del mio pennello. Impostazione del pennello, regolo le dimensioni ovviamente, ma sfumatura al 100, flusso a 20 perché voglio che sia come un pennello quando vado a dipingere il muro della casa più passaggi do più si intensifica questa impronta che vado a dare con il mio pennello densità 100% maschera automatica disattivata ed inizio, comincio da qui e vedi che do dei passaggi e compaiono delle zone rosse e ovviamente più passaggi do più si intensificherà l'intervento, ok? Qui, dopo c'era questa zona mi piaceva particolarmente, qui c'era un canalone, c'era questa parte qui e vado praticamente a passare in tutte quelle zone dove voglio che venga intensificata la luminosità sfruttando appunto quello che abbiamo visto all'inizio dove ho individuato i punti chiave dove arrivava la luce. Ho terminato il mio intervento e andiamo a vedere cosa è cambiato quindi nascondiamo la sovrapposizione della maschera o cliccando qui o premendo il tasto O sulla tastiera e vediamo qui con l'occhiolino prima dopo vedi che ha aumentato l'intensità della luce in quelle parti tuttavia andando a rivisualizzare le spennellate notiamo che sono state applicate in modo un po' grossolano sono andate anche ad applicarsi su delle zone scure e io voglio invece che sia focalizzata nella zona più chiara della spennellata che ho dato e lo faccio attraverso appunto limitando l'intervento in base alla luminosità e quindi cosa vado a fare? Allora innanzitutto diamo un nome a questa maschera per non sbagliarci rinomina e lo chiamiamo Luci ottimo quindi so che li sto intervenendo sulle zone chiare della scena e vado a sottrarre a queste spennellate le zone più scure quindi sottrai e cosa scelgo? intervallo luminanza ottimo qui mi chiede di dargli un riferimento per la luminanza potrei ad esempio andare qui sul bosco e cliccare guarda toglimi queste parti più scure quindi va a togliere dalla scena che io ho impostato le zone più scure qui ho qui l'intervallo luminanza qui vedo lo strumento che mi dice guarda elimina queste zone e qui ho la sfumatura mostra la maschera di luminanza mi fa capire quali sono le parti che andrà ad eliminare praticamente dalla spennellata più chiara e ovviamente voglio che le parti più scure con un po' di sfumatura vengano cancellate vengano nascoste tant'è che adesso se andiamo a vedere l'intervento prima dopo è molto più localizzato andiamo a vedere anche la maschera e lo notiamo chiaramente qui sono l'intervento che si è limitato ai soli alberi non è andato ad influenzare anche le zone più scure quindi da una mano praticamente a concentrare l'intervento solo sulle zone più chiare perché le spennellate con il mouse ovviamente non sono il massimo della precisione avrò comunque qui modo di ottimizzare questo intervento per limitarlo magari con la sfumatura alle parti più scure o più chiare della nostra scena adesso io voglio fare l'inverso per quanto riguarda le zone scure cioè scurire un pochino tutto il resto per creare un po' di contrasto e tridimensionalità quindi vado a creare una nuova maschera sempre col pennello che andrò anche magari a chiamare dopo ombre ma intanto cosa faccio? su esposizione gli do un meno uno e faccio esattamente come prima vado a spennellare ma ovviamente quali zone? le zone più scure visualizziamo l'intervento delle maschere ed inizio qui così zone un po' più scure anche questa zona qui questa parte sarà un po' più scura e via faccio tutta la serie di interventi dove voglio che ci venga applicata una riduzione della luminosità per aumentare appunto il contrasto con le zone più chiare ok ho terminato anche questo passaggio disattiviamo la sovrapposizione delle maschere vediamo prima o dopo vedi che ho scurito leggermente quelle zone adesso è troppo, troppo poco potrò comunque lavorare con il fattore per intensificare o ridurre l'intervento che sono andato a fare ovviamente anche qui vado a sottrarre le zone più luminose perché il pennello comunque andiamo a vedere magari è andato ad invadere un po' le zone più chiare specie magari quando vado a fare degli interventi qui sono andato a coprire anche delle zone più chiare quindi sottrai intervallo luminanza ma ovviamente lavoro al contrario voglio che vengano eliminate le zone più chiare quindi clicco ad esempio qui vedi che il riferimento qui mi dice che ho preso quella zona chiara e c'è la sfumatura e potrò anche qui visualizzare la maschera e capire bene gestendo appunto la sfumatura quali sono le zone che voglio far scomparire dalla maschera che ha fatto l'intervento sulle zone scure andiamo a vedere prima o dopo andiamo a vedere anche qui le maschere e potrò anche qui vedere molto bene come vengono influenzate lo noti in questa zona qui dove con una sfumatura inferiore va a colpire anche le nuvole se aumento questa sfumatura un po' le nuvole scompaiono ottimo direi che può andar bene attiviamo così e andiamo a vedere prima o dopo cosa succede prima però rinominiamo questa maschera chiamiamola ombre perfetto andiamo a vedere chiudendo qui le maschere prima o dopo vedi che c'è già un qualcosa di molto più interessante da questo punto di vista adesso vado a fare dei ritocchi finali innanzitutto vado nuovamente a vedere la gamma dinamica se le zone chiare si sono un po' bruciate quindi tengo premuto il testo option su mac alt su windows clicco sui bianchi e vedi ci sono delle zone leggermente bruciate quindi vado a ridurre questo valore per recuperare un po' quei punti specifici molto chiari quindi ciò non toglie il fatto che io possa fare ulteriori interventi con le luci ad esempio per scherire o ridurre le luci ottimo bene faccio degli altri interventi riduzione e foschia aumentiamo questo valore questo va ad aumentare ancora un po' di più quel contrasto sull'immagine però è stato già amplificato moltissimo è stato ulteriormente amplificato dalle maschere guarda prima, dopo vedi come è molto importante come intervento prima, dopo potrei magari qui su questa zona della montagna intensificare l'intervento quindi cosa vado a fare sulle luci qui dove ho la possibilità di fare gli interventi vado a lavorare seleziono la maschera col fattore posso aumentare questo fattore vedi che aumenta la luminosità o si riduce aumento un pochino potrei magari tornare a prendere il pennello e quindi qui sopra tornare a dare dei passaggi per illuminare ancora di più questa zona perché appunto con il flusso più passaggi do più aumenta questo intervento qui e qui sono andato ad aumentare un pochino la luminosità di quelle zone andiamo a vedere le maschere prima, dopo vedi come è aumentato è finita qui? No, faccio ulteriori interventi perché questo versante del bosco mi piacerebbe dargli un po' di tirare fuori un po' più di dettaglio sulle ombre però in questo caso vado sia a sfruttare le maschere ma sfrutto una maschera radiale, sfumatura radiale e vedi faccio questa cosa qui vado ad inclinarla un po' e andrò ad agire esclusivamente sulle ombre vado a schiarire eccola lì tirare fuori un po' di dettaglio sulle ombre qui e duplico questa sfumatura radiale per applicare lo stesso intervento in questa zona della mia immagine ovviamente ingrandendola un pochino ok e vado anche qui proviamo a aumentare l'intensità delle ombre e anche un po' di esposizione poco poco bene ci siamo c'è anche qui un'altra zona che potrei migliorare quindi andiamo a duplicare la sfumatura radiale questa qui la applico però in modo molto più piccolo in quest'area qui vediamo se ci sta benissimo andiamo a vedere prima dopo molto interessante mi pare anche piuttosto buona c'è questa zona molto scura eventualmente se ritengo opportuno una sfumatura lineare qui e vado magari a schiarire leggermente questa parte qui ottimo questo è l'intervento che io vado a fare nella mia scena vediamo come era all'inizio era così dopo è così ecco il tipo di intervento che sono andato a fare per aumentare un po' la tridimensionalità dell'immagine e qui non c'è stata una variazione nei colori perché magari qualcuno potrebbe dire ok non sono i colori naturali che si vedevano nell'immagine lì al momento in realtà no ho solo ottimizzato l'immagine e i colori sono quelli ovviamente per il purista della fotografia dove non vuole fare degli interventi tutto questo può non piacere lo comprendo però a me piace così e ti faccio vedere come faccio l'intervento io cosa vado a fare alla fine? c'è una dominante sia magenta in questa immagine che eccessivamente blu nelle ombre la magenta magari non l'hai notata ma c'è ma guarda come vado ad eliminarla vado su mixer colori vado su mixer vado in saturazione e attenzione guarda aumento in viola aumento in magenta e vedi che compare questa dominante viola magari tu non l'avevi notata ma è purtroppo una caratteristica che è un po' lightroom effettivamente lightroom camera raw tende a crearti questi artefatti un po' viola magenta all'interno dell'immagine allora io cosa che faccio di solito porto questi due slider al valore meno 100 per eliminare appunto questa dominante proprio anche se appena appena percettibile la vado ad eliminare però per quanto riguarda i blu le dominanti blu nelle ombre faccio questa cosa qui vado su colore punti vado a prendere il campionatore ad esempio qui sulle ombre vedi campiono il blu e ci vado a togliere un po' di saturazione questo intervento va a togliere lo vedi in modo molto chiaro in modo selettivo un po' la dominante blu sulle zone d'ombra ovviamente ci posso anche lavorare un po' con luminosità abbassandola un po' aumenta la percezione del contrasto la vedi anche sul cielo può piacere o non piacere però un pochino l'immagine viene migliorata andiamo a vedere l'immagine com'era prima o dopo adesso qui chiudo tutto vediamo prima questa qui era l'immagine iniziale questa è l'immagine finale e questo è il tipo di intervento che sono andato a fare io sull'immagine per renderla un po' più tridimensionale diciamo rendere un po' più interessante l'immagine con i contrasti e quindi dare un po' di profondità a vedere meglio la luce come va a colpire la scena che ho davanti e siamo arrivati alla fine anche di questa puntata spero ti sia piaciuta vai qui sotto nei commenti lasciami i tuoi feedback i tuoi punti di vista io ti ringrazio di avermi seguito fino alla fine e ringrazio tutti i sostenitori del canale i patrons che mi permettono di continuare con questo progetto se vuoi saperne di più riguardo i patrons come accedere anche a questi file che ho utilizzato per poterli sviluppare a casa tua con il tuo software vai qui sotto e troverai tutti i link tutte le informazioni che ti servono per diventare anche tu un sostenitore del mio progetto per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo episodio ciao da Alessia ciao da Alessia